Ciao ragazzi, sono Licia Fertz, ho 93 anni e sono l'influencer più vecchia d'Italia. Ragazzi, non c'è mai il modo di essere tristi, basta realizzarsi e sorridere alla vita. Le cose brutte vengono accantonate e a volte anche eliminate. Consiglio numero uno, volersi bene. Consiglio numero due, viaggiare molto, godersi la vita, f***e molto, far l'amore.